Cari amiche e cari amici, con l'approssimarsi delle festività natalizie desido rivolgere a tutti voi e le vostre famiglie un augurio di cuore. Sarà un Natale particolare, diverso dal solito. Molti lo trascorreranno lontani dagli affetti familiari e con un pensiero ancora più sentito all'Italia così segnata dal dolore della pandemia. Diversamente lo vivranno anche i tanti malati e il personale medico ospedaliero che si adopera per la loro guarigione con straordinaria generosità. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento. E un saluto speciale ai più giovani. Sentiamo forte la responsabilità di preservare la magia di questo momento e di tenere vivo lo spirito di una festività che parte integrante al nostro patrimonio culturale il momento di gioia legato al mistero della natività. Cari connazionali, in questi giorni possiamo guardare con ottimismo all'anno che abbiamo davanti. L'imminente distribuzione dei vaccini ci pone dinanzi alla concreta prospettiva di superare l'emergenza e di ritornare ad una graduale normalità. E ci riempio d'orgoglio sapere che anche in questo campo avanzato della ricerca vi è tanta Italia. E costituiscono una bella novità anche i voli Covid tested fra Italia e Stati Uniti, alla cui attivazione l'Ambasciata e la Farnesina hanno lavorato con determinazione per rendere più agevoli i collegamenti tutelando al contempo la salute dei passeggeri nel rispetto delle disposizioni sanitarie italiane e americane. In questi mesi la rete diplomatica e consolare negli Stati Uniti è stata vicina alla nostra comunità, segnata dagli effetti sociali ed economici di questa fase storica così complessa. Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, abbiamo assicurato presenza e ascolto, garantito l'esercizio di voto per il referendum, fornito ai servizi essenziali, intercettando al contempo le nuove esigenze di una collettività così vitale e numerosa. L'anno che sta per cominciare si preannuncia denso di appuntamenti importanti, a partire dall'insediamento della nuova amministrazione americana. Abbiamo seguito con attenzione e rispetto il grande esercizio democratico che ha portato un numero record di cittadini a far sentire la propria voce attraverso lo strumento del voto. Nel nuovo anno lavoreremo insieme per rendere sempre più saldi i nostri antichi rapporti sia sul piano bilaterale che nel contesto multilaterale, a partire dal G20 di cui abbiamo assunto la presidenza. L'Italia avrà un ruolo da protagonista sulla scena internazionale e ancora una volta l'America sarà al nostro fianco. Nel 2021 celebreremo anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche fra Italia e Stati Uniti. Attraverso un articolato programma di eventi onoreremo il momento in cui fu piantato il seme di uno straordinario rapporto di amicizia fondato su valori comuni e forgiato dal lavoro di tanti milioni di italiani che hanno contribuito alla grandezza di questo paese. Ci condurrà nel nuovo anno una guida illustre con il quale affronteremo un viaggio entusiasmante nella poesia e nella bellezza della nostra lingua. Insieme celebreremo infatti il 700esimo anniversario di Dante Alighieri. Come ha ricordato di recente il presidente Mattarella, al quale va il nostro saluto affettuoso, celebrare il sommo poeta significa rendere un doveroso omaggio alla lingua italiana che ha raggiunto le vette più alte delle letture di tutti i tempi. Cari amici, ci aspetta dunque un anno di intenso lavoro. Sono certo che con il contributo di tutti supereremo anche queste nuove sfide e per usare proprio le parole di Dante potremo nuovamente uscire a rivedere le stelle. Con questi aspici, anche a nome di mia moglie, rinnovo a tutti voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo.